Come riporta anche la app di OneFootball, Ibrahimovic sarebbe tentato di tornare in Italia, ma prima di parlare del presente e del futuro, vorrei tornare un attimo per una puntualizzazione, quando, e oggi l'ho voluto ricordare nel mio video, i 50 anni della prima vittoria in Coppa Intercontinentale, insomma il Milan, anche se la FIFA dice che non è Coppa del Mondo, comunque è in cima al mondo, per la prima volta 50 anni fa e mi sembrava il caso di ricordarlo. Ho ribadito questi ricordi con i filmati, con il gol di Rivera, il Milan perse 2-1 ma vinse 3-0 l'andata e quindi diventò campione del mondo, o meglio vinse la Coppa Intercontinentale, è un periodo che con la solita educazione, come sempre i tifosi del Milan parlano con me, non si vive solo di ricordi, quei ricordi sono sbiaditi. Allora, innanzitutto, per qualcuno saranno sbiaditi, per me sono vivissimi perché arrivare in cima al mondo è un ricordo indimenticabile, ma quando si torna a dei momenti belli del Milan, il solito leitmotiv, il solito refrain, non si vive di ricordi, come tutti coloro che siano stati, per esempio, a Barcellona nel 1989, non debbano ricordare quella data, non si vive di ricordi. Nessuno vive di ricordi, solo di ricordi, ma se i ricordi ci sono, se un compleanno, un fidanzamento, una prima ragazza, una bella gita, la comunione dei figli, non si vive di ricordi ricordando la comunione dei figli o una bella gita insieme ad amici. Non si vive, però, però, quando magari si pensa a quel giorno, ah, io ricordo quella gita, quel fidanzamento, quella ragazza, quella crisima, eccetera. È un ricordo, i ricordi appartengono, poi uno li può vivere meglio e meno bene, ma ogni volta che si ricorda qualcosa di piacevole del Milan non si vive di ricordi, ma chi vive di ricordi? Chiaro che viviamo di futuro, chiaro che vorremmo rivedere il Milan in condizioni certamente migliori di classifica, di umore, di prestazione rispetto ad esso, ma se dobbiamo ricordare che il Milan, 50 anni fa, perché così dice la storia, ha vinto la Coppa Intercontinentale, lo ricordiamo, come ricordiamo i compleanni, non si festeggiano più i compleanni perché è il passato e viviamo solo di lontani ricordi. Detto questo, parliamo di Ibrahimovic. Domenica mattina alle 10.49 ricevo un WhatsApp da Stoccolma, amici miei di Stoccolma. Avevo chiesto, attenzione, c'è qualche possibilità che Ibrahimovic, innamorato del Milan, possa aver la voglia di ritornare, allora magari ci si potrebbe illudere, sapete che io ho un debole, come molti di voi, per Ibrahimovic. Purtroppo sono stato un po' disilluso, da quello che mi è stato detto, mi auguro di sbagliarmi, mi auguro di essere poi smentito, mi auguro poi di festeggiare. Mi dicono che Ibra non vorrebbe così, a meno che poi ci siano delle insistenze da parte di Casa Milan, che in questo momento non posso ipotizzare, non vorrebbe tornare a Milan per i ricordi che ha lasciato, per l'amore, per la città e la squadra. Ma soprattutto, se volesse, ed ecco, forse questo è il reale motivo, indipendentemente dai lati romantici, se dovesse tornare in Italia vorrebbe, qualcuno dice, tornare in squadre massimamente competitive. Però ci sono delle insistenze per quello che riguarda il Bologna o il Genoa. Io, sinceramente, se adesso dovessi ipotizzare, lo vedrei più in una squadra, magari come il Napoli, insieme a Carlo Ancelotti, che saprebbe, come ha gestito grandi giocatori nel passato, giovani e meno giovani, saprebbe gestire, anche per il suo carisma, questo giocatore che si farebbe gestire da Carlo Ancelotti. Per quello che riguarda il Milan, in questo momento non sarebbe intenzione di Ibrahimovic tornare al Milan. Io mi auguro che il carisma di Bobano e Maldini, eventualmente, se il Milan lo volesse, il carisma di Bobano e Maldini, dicevo, potrebbero convincerlo. Però in questo momento, avevo detto, forza, cercate di convincerlo, in questo momento mi sembra molto lontano dal Milan Ibrahimovic per scelta sua, indipendentemente dalle scelte, ripeto, di casa Mila. Volevo tenervi aggiornato, la telefonata da Stoccolma alle 10.49 di domenica, mattina, mi dice questo, non avrebbe intenzione di tornare, se dovesse tornare, ecco perché non credo neanche Bologna-Genoa, poi vedremo, l'evolversi, mancano due mesi al mercato, il contratto con la squadra di Los Angeles termina il 31 di dicembre, quindi è tutto da vedere. Ma in questo momento mi sembra piuttosto lontano dal Milan, Zlatan-Ibrahimovic, soprattutto per scelta sua. In questo momento cambiasse qualcosa, sarei felicissimo di essere smentito e di informarmi. Forse Ibra, se dovesse tornare nel campionato italiano, vuole tornare a lottare per qualcosa di importante che in questo momento il Milan non gli può garantire. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pino.